Luigi, volentieri tutte le volte che vuoi, ma per favore, siccome siamo tutti e due candidati sindaci, a quando vuoi in una condizione di par condition. Vorrei solo capire, ti candidi col centro-destra, anche col centro-destra, ma tu sei stato segretario provinciale del PD, emerge una grossa contraddizione. Luigi, siccome anche tu sei candidato sindaco. Ma rispondimi, sei stato segretario provinciale del PD, rispondimi, è un confronto, non è bello fare un confronto, allora non sono giornalista, non considerarmi giornalista, è anche tu, e rispondimi. Un vero dibattito tra me e per favore di loro. No, no, ma mi vuoi rispondere? Tu eri segretario del PD, ma rispondi. Devi rispondere alla città. Tu eri tutt'uno con pelillo. Tu eri tutt'uno con pelillo. Luigi, tu sei candidato sindaco. Ma rispondimi, rispondimi. Luigi, quando vuoi, in una condizione di par condition. E' più par condicio di questa. Più par condicio di questa. Come no? Non è par condicio di questa. Non è par condicio di questa. No, ma guarda, non tu rispondimi. Non eri vicino a Renzi? Luigi, caro, te lo ripeto. E io ti pongo molte domande. Eri legato a Renzi, eri legato a Renzi, ai decreti salva-ilva. Una condizione di par condicio. Ma più par condicio di questi. Non è una par condicio. Allora, scusa, quando andremo a fare il dibattito, non saremo nella stessa condizione? No, in questa condizione no. No, no, due persone che si confrontano. Quando lo faremo? Siamo facendo un confronto civile. Nessuna offesa. Perché ti sto offendendo? No, e neanche io. No, e allora? E quindi rispondimi. Quando sarei? C'è una grande incoerenza. Hai dimostrato di fare il salto della quaglia. Forse vuoi entrare in consiglio comunale a tutti i costi. Visto che sei stato solo consigliere circoscrizionale. Senti, hai dimostrato soltanto di essere un saltimbanco della politica. Intanto queste cose o me le dici così. No, no, no. Ed è benissimo. E allora non è meglio confrontarsi? Un confronto lo stai rifiutando? Lo stai rifiutando? Sì, perché non vuoi rispondere. Non vuoi rispondere. E rispondimi, rispondimi. Hai fatto il salto della quaglia. Come fa? Gli elettori di centrodestra non possono votare l'ex segretario provinciale del PD. Non lo possono votare. È un'incoerenza. Siccome sei candidato a sindaco. Mi ripeti sempre la stessa cosa. Più par condicio di questa. Perché? E' la telecamera che fa. Altera la risposta tua. Altera la mia domanda. E non sai rispondere. Non so rispondere. Non vuoi rispondere. Vabbè, comunque hai fatto il saltimbanco della politica. Grazie Luigi. Grazie a te. Quando vuoi facciamo il dibattito. Perdonami, ma c'è sempre Pelillo dietro di te. No, no. Era una cosa che Michele Pelillo è sempre con te. Luigi, quando vuoi. Vabbè, senti. Si è incantato il disco. Sei candidato a sindaco, come me, in una condizione di par condicio di questo. Non vuoi rispondere. Più par condicio di questo. Non è par condicio di questo. Non sai rispondere. Luigi. Va bene. Buona giornata. Buon lavoro e buona campagna elettorale. Anche a te. Elettori di centrodestra, mi rivolgo a voi. Non potrete certamente votare Melucci, espressione del centrosinistra, ma non potrete neanche votare quello che la persona che vi hanno imposto, Musillo. Perché è un uomo di sinistra. È l'ex segretario provinciale del PD. Potreste far convergere i vostri voti sulla mia persona. Sono un uomo libero. Mi presento trasversalmente rispetto ai partiti. Ho 20 anni di battaglie documentate, certificate da giornalista per difendere la mia e la nostra Taranto. Parlano i fatti, parlano le immagini. Ho sempre sfidato il sistema. Perciò avete un'opportunità che il centrodestra vi ha voluto negare mettendo un uomo di sinistra mascherato con i colori del centrodestra. Grazie. 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 Grazie a tutti.